Prendete un'orchestra fra le migliori in Italia, mettete un maestro del calibro di Luciano Fiore a dirigerla e provate ad ascoltare le note. Questo è il risultato, una performance di tutto rispetto ed un'esecuzione sublime dell'orchestra del Mediterraneo, che ieri si è esibita al Teatro del Fuoco di Foggia per assaggi di musica. Fra i brani interpretati quelli di Mozart, Elgar e Brahms, con le bacchette in mano Luciano Fiore ha dato il là ai suoi musicisti. Quello di ieri è stato un assaggio di musica davvero particolare. Grazie a tutti.